Ciao bello, sono Loridis e in questo video vediamo cosa abbiamo deciso per quanto riguarda il replay e Resident Evil. Ora, ho contato tutti i commenti, il video l'ho messo in privato perché non volevo che altri commentassero perché ho fatto il conteggio, c'è stanotte, cos'è oggi? È domenica. Quindi domenica notte ho fatto il conteggio, domani esce il video, quindi ora, tu che sei vendore il video, io ieri ero, vabbè sono zitto. È successo quello che non mi aspettavo, abbiamo avuto 40 voti per il replay a pagamento e solo 16 per il replay gratis, quindi il replay si va a pagamento e farò la pagina da Patreon. Per Resident Evil invece siamo 48 a 42, cioè 48 sì e 42 no. Ora sono indeciso perché è stato, ha vinto il sì, quindi devo dover farlo, però molti hanno detto no, quindi che cosa faccio? Intanto non ti preoccupare che se faccio Resident Evil il canale rimane di Rocket League, cioè il canale, questo canale mio è di Rocket League, il gioco principale sarà sempre Rocket League. Se faccio Resident Evil conto di togliermelo in 3, massimo 4 gameplay, perché conta che ho intenzione di tagliare tantissimo Resident Evil. Hanno detto che strappierò 15 ore, io voglio provare a fare un video ogni 5 ore di gameplay, quindi questo vuol dire che lo taglierò come un cornuto, cioè non voglio fare un che... Non mi interessa fare il solito canale di gameplay perché per quello vai a vedere qualunque altra persona, cioè qualunque altro canale, come ha detto uno nei commenti, Resident Evil lo faranno tutti. Io perché ti ho chiesto se volevi vederlo? Perché comunque ci giocherò, perché è interessante e mi attira come gioco, però non lo farò come lo fanno gli altri. Cioè io veramente te l'ho detto, la media è che è una cosa assurda, cerco di tagliare 5 ore in 15-20 minuti, il massimo che voglio riuscire a fare, che è una cosa impossibile. Cioè non lo so come ci riuscirò e se ci riuscirò, però quello che voglio fare è quello, cioè voglio puntare a quello. E infatti ho intenzione di chiamare la serie Resident Evil Fast, cioè Fast Resident Evil è una cosa del genere, cioè 3 episodi e finiamo il gioco. Questo è perché, anche se hai votato no per il Resident Evil, dico non ti preoccupare perché 3, massimo 4 gameplay è tolto, cioè non spunti, te lo puoi scordare, non ci sarà più. Quindi io faccio questa prova e vediamo come va. Per quanto riguarda Patreon invece, facciamo un video domani, cioè domani arriva un altro video in cui spiego come funziona Patreon, così differenziamo bene le cose, quindi per questo ho detto cosa ha vinto. Domani arriva il video in cui spiego come funziona Patreon e niente, detto questo noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!